La storia inizia nei primi del novecento con mio bisnonno che cominciò praticamente a produrre selle per cavalli e teli per carrozze. L'arte sartoriale e l'amore per questo lavoro sono state trasmesse a mio nonno Umberto il quale intorno agli anni quaranta continua praticamente la tradizione di famiglia con grande dedizione ed entusiasmo. Negli anni settanta l'azienda passa mio padre Giancarlo insieme mio nonno furono tre primi a introdurre il pvc come materiale di protezione per il sole per la pioggia. Mi è sempre piaciuto e affascinato la sartolarità con la quale si producevano i teli. Quindi il cliente arrivava con un'esigenza sempre diversa. Mio padre doveva riuscire ad avere la capacità di creare attraverso i materiali quel prodotto finito. Babio mi ha dato una fiducia importante che manterrò fino alla fine. È una cosa che abbiamo voluto insieme. Abbiamo costruito insieme sia i brand e le iniziative delle aziende da scegliere. Insieme siamo stati in alcune aziende dirette per portare la collaborazione con aziende come K.I. Store, come Giulio Barbieri e tante altre. Fabio, essendo giovane, ha molta voglia di fare. Ha molta voglia di crescere. Grazie anche a questa sua voglia e alla voglia di tutti i miei colleghi stiamo riuscendo ad avere un buon risultato. Se tu domandi a me o domandi ai miei collaboratori che lavoro vorremmo fare, continuare a fare nei prossimi anni è questo. È questo lavoro. Non c'è un altro lavoro che ci motiva così tanto come fare quello che facciamo tutti i giorni.